Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al mascarpone e marmellata di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, mascarpone, marmellata di fragole, zucchero semolato, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, sale, la scorza di limone, un liquore dolce e latte. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo le uova e le facciamo montare per 6 minuti a velocità 4. aggiungiamo il mascarpone ed amalgamare per 2 minuti a velocità 4. togliamo la farfalla dalle lame e aggiungiamo la farina, la vanillina, il latte, il liquore, il lievito e il pizzico di sale e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 5. il composto è pronto trasferiamolo in uno stampo del diametro di 22 centimetri ben imburrato. adesso con un cucchiaio mettiamo la marmellata nell'impasto sull'impasto varichiamola con un bastoncino uno spiedino in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 40 minuti circa fare sempre la prova a stecchino la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo torta al mascarpone e marmellata di fragole grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti